Le caratteristiche della poetica di Umberto Saba si possono comprendere bene dall'articolo intitolato Quello che resta da fare ai poeti. Articolo scritto intorno al 1912-1913 la cui pubblicazione viene però rifiutata dal quotidiano La Voce e che verrà poi pubblicato soltanto molti anni dopo nel 1959 due anni dopo la morte dell'autore. Ne consiglio la lettura a tutti si tratta di poche pagine che trovate gratuitamente su internet. L'articolo si apre con la frase ai poeti resta da fare la poesia onesta e per far capire cos'è gli intenda per onestà e disonestà letteraria fa il paragone, cito adesso dall'articolo, aperte virgolette, fra Alessandro Manzoni e Gabriele d'Annunzio, fra inni sacri e i cori della Delchi e il secondo libro delle Laudi e la nave, fra versi mediocri e immortali e magnifici versi per la più parte caduchi, l'onestà dell'uno e la nessuna onestà dell'altro, così verso loro stessi come verso il lettore. A chi sa andare ogni poco oltre la superficie dei versi, apparisce in quelli del Manzoni la costante e rara cura di non dire una parola che non corrisponda perfettamente alla sua visione, mentre vede che l'artificio del d'Annunzio non è solo formale ma anche sostanziale. Egli si esagera o addirittura si finge passioni che non sono mai state nel suo temperamento. E questo imperdonabile peccato contro lo spirito egli lo commette al solo e ben meschino scopo di ottenere una strofa più appariscente, un verso più clamoroso. Né questa onestà è possibile che in chi ha la religione dell'arte e l'ama per sé stessa e non per la speranza della gloria. Ma il paradiso del successo o il purgatorio dell'insuccesso, se non lo lasciano del tutto indifferente, non menomano il suo amore e non lo fanno, per avidità di battimani, volgere né a destra né a sinistra. Vorrei si facesse per l'arte quello che i modernisti hanno fatto per la religione, senza paura di distruggere quello che amavano dall'infanzia. Cade una chiesa e un'altra ne sorge. Se dopo la vivisezione alcuno si accorgesse che ben pochi dei suoi sentimenti richiedono la poesia, che faccia solo quel poco o magari niente, e ricerchi in un laborioso ozio quello che può sostituire per lui la poesia in versi. E se non si stabilisce il principio che non si può, per il più bel verso della letteratura, falsare consciamente o no la propria visione, per uno, in un certo senso più bello, cento saranno di cattiva lega. E il risultato complessivo la morte della personalità. Ai poeti della generazione presente non resta che un ritorno alle origini, con un'opera forse più di selezione e di rifacimento che di novissima creazione. Resta ad essi quello che finora fu solo raramente e parzialmente compiuto, la poesia onesta, chiuse virgolette. Coerente con questo suo credo letterario, nelle sue poesie Saba descrive personaggi umili e animali domestici, e ci mostra Trieste con i suoi caffè e le sue strade. Questo però non significa che la sua sia una poesia oggettiva, in quanto l'influsso della psicoanalisi rende i suoi versi uno strumento di continuo scandaglio interiore, capace di comprendere i traumi dell'anima, i dissidi che lacerano la personalità umana e le origini delle proprie nevrosi. Il linguaggio si adatta a quello che descrive, quindi è familiare, semplice e preferisce strutture tradizionali rispetto al verso libero fiorito con il futurismo. Lo stile della poesia di Saba è stato definito antinovecentista, in quanto usa le forme classiche del sonetto, dell'endecasillabo e del settenario, con rime per lo più baciate e, poche, alternate. Bene, questo video termina qui. Vi ringrazio sinceramente per l'attenzione. Ciao a tutti e alla prossima!